Stephanie V è sinonimo di stili, eleganza e glamour da oltre 15 anni. Scegliamo con cura i migliori marchi per il loro stile esclusivo. Capi per ogni occasione, nel quotidiano, lo sportivo e la cerimonia. Il nostro staff sarà sempre al tuo fianco per consigliarti al meglio, perché la tua soddisfazione ci sta veramente a cuore. Stephanie V, tranne la sposa, vestiamo tutti gli altri. Afiano Romano